salve a tutti amici e amiche oggi parliamo di meteo clima fenomeni meteorologici molti avranno sentito le notizie degli ultimi giorni a proposito dei voli di linea che hanno attraversato violente turbolenze con addirittura una vittima e feriti a bordo cosa sta succedendo dobbiamo preoccuparci con questo video cercherò di fare chiarezza e dare il mio contributo prima di tutto vi dico che non dovete preoccuparvi e vedremo perché che piccole turbolenze possono capitare a tutti e tutti le abbiamo sperimentate volando su ieri di linea anzi le cause di questi incidenti le possiamo spiegare molto facilmente mentre come sempre accade quando si parla di aerei passeggeri i giornalisti ci marciano proprio lavorano sulle paure più ancestrali degli esseri umani che insomma dimostrano di essere più bravi a scrivere sceneggiature da film horror piuttosto che articoli giornalistici quindi prima di affrontare la cosa con un criterio scientifico vi leggo giusto dei trafiletti così per farvi un'idea del livello infimo di certi organi di stampa e siccome ci tengo alla salute eviterò di fare i nomi dei giornali quindi lascio a voi la libertà di immaginare quali ma stiamo parlando delle più importanti iniziamo turbolenza d'aria in volo panico e morte sul boeing 22 maggio ore 6 un violento vuoto sopra il mare delle andamane persi 1900 metri di quota una vittima e 65 feriti il velivolo su cui viaggiavano 211 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio ha iniziato a puntare verso l'alto oscillando a all'improvviso si è verificata una caduta drastica i passeggeri seduti senza cintura di sicurezza allacciata si sono ritrovati scaraventati lontano dai loro posti stando ai dati di tracciamento forniti da flight radar 24 l'aereo stava viaggiando a un'altitudine di 11.300 metri improvvisamente nell'arco di tre minuti è sceso a 9.400 metri e poi continua con una testimonianza di uno dei passeggeri nessuno ci ha comunicato di allacciare le cinture una prassi quando l'aereo incontra turbolenze e poi arriva la spiegazione dell'esperto e fate attenzione le turbolenze aeree sono il risultato di un movimento irregolare dell'aria che può causare lo spostamento di un aeroplano in seguito all'aumento di velocità e del cambio di direzione delle correnti quando le turbolenze sono davvero forti come quelle sui cieli di bangkok non so perché ma bangkok signori c'ha le correnti più forti non si ha la possibilità di evitarle cioè non scappi proprio perché interessano aree vastissime di centinaia di miglia nautiche l'aereo non riesce a mantenere nemmeno il volo livellato e per conservare i parametri deve scendere o salire dando l'impressione di essere fuori controllo io non so dove li pescono questi asperti però insomma tipo mio cugino sapeva fare di meglio e poi un altro giornale non strano cosa è successo sul volo travolto dalla turbolenza killer precipitato per 54 metri in meno di 5 secondi ok dalle indagini emerge adesso che l'aereo è precipitato per 54 metri in 4,6 secondi come cadere dalla torre di pisa l'accelerazione verticale è cambiata da 1,5 g forza gravitazionale negativi a 1,5 g positivi entro 4 secondi ciò probabilmente ha fatto sì che gli occupanti che erano in volo cadessero all'indietro non ho parole la vittima è un passeggero britannico di 73 anni stroncato da un arresto cardiaco stando ai dati di tracciamento forniti da flight radar 24 e analizzati dall'associated press l'aereo stava viaggiando a un'altitudine di 11.300 metri e poi nell'arco di 3 minuti è sceso a 9.400 metri e poi un trafiletto di un'altra emittente nazionale sentite qua turbolenza sull'aereo londra hong kong perché c'entra il climate change il meteorologo lorenzo tedici conferma lui che l'incidente della singapore airlines è correlato al climate change nel ventunesimo secolo volare in aereo è più pericoloso per i temporali forti causati dall'aumento del caldo sottolinea per l'ex pilota baratti eventi atmosferici estremi di questo tipo saranno sempre meno prevedibili e poi arrivano i primi geni che non si prendono neanche la briga di usare bene google translate decentemente i primi risultati dell'inchiesta sull'episodio era stato aperto a subito un'inchiesta e secondo il rapporto preliminare un violento cambiamento nella forza gravitazionale ha causato la turbolenza tada quindi copia e incolla con la torre di pisa usata come il metro di misura signori è proprio la forza gravitazionale dopo i campi di calcio le torri efeil in nevada e il texas arriva la torre di pisa la torre di pisa è il nuovo metro di misura per capire in dettaglio l'effetto è simile a quello che si otterrebbe cadendo dall'alto della torre di pisa tutti voi avete sperimentato no questa cosa voglio dire chi non ha mai provato a lanciarsi dalla torre di pisa tutti no sappiamo cosa si prova rapidi cambiamenti di g forza gravitazionale per una durata di 4,6 secondi hanno provocato un calo di altitudine di 178 piedi 54 metri quindi cari amici in tutta la mia vita è la prima volta che leggo qualcuno che è riuscito a tradurre la forza g o accelerazione di gravità in forza gravitazionale che proprio era difficile ma ci sono riusciti e poi arriva il mio preferito cioè per chi mi conosce sa quanto adoro la capacità di questo giornale italiano di spararle grosse voglio dire dopo i satelliti nucleari di putin ecco che arriva anche un articolo dedicato a questo caso londra lo fanno sempre aprono gli articoli così non so perché londra una tragedia per le vittime un incubo per i sopravvissuti e il bilancio dell'anomalo incidente in cui è rimasto colpito un aereo di linea della singapore airlines in volo da londra a singapore il velivolo ha subito un forte e improvviso sbalzo di quota 1800 metri in cinque minuti a causa di una grave turbolenza e un passeggero di 73 anni di cittadinanza britannica ha perso la vita per i traumi riportati più di 30 passeggeri sono rimasti feriti sette sono gravi i membri dell'equipaggio con lievi ferite sono nove e tutti gli altri non dimenticheranno facilmente la spaventosa esperienza e qui c'è un po di romanzo superato il problema all'aereo un boeing 777 è stato dirottato a bangkok in thailandia dove è atterrato alle 15 e 45 il volo l'SQ 321 era partito dall'aeroporto londinese di hetero secondo sky news l'aereo potrebbe aver colpito una sacca d'aria prima di dover effettuare l'atterraggio d'emergenza una sacca d'aria i dati radar indicano che i dati radar indicano che il jet stava volando a 11.280 metri d'altitudine quando è stato investito dalla turbolenza che lo ha fatto precipitare di quasi 2000 metri nel giro di tre minuti quindi spero che vi siate resi conto di come le notizie cambiano fra una testata e l'altra no 54 metri 3000 metri 2800 metri 5 minuti 3 minuti un passeggero che muore a causa dei danni riportati lo stesso passeggero muore a causa di un infarto e insomma perché cosa gli costa fare delle verifiche io mi chiedo sempre questo perché non fanno delle verifiche prima di scrivere un articolo che ci vuole quindi al di là di questo poi mi sono chiesto ma cosa succede se ci metto 5 secondi per fare 54 metri in caduta libera sto cadendo veramente dalla torre di pisa oppure magari sono sulla luna dove la gravità è un sesto di quella terrestre quindi me la prendo proprio comoda per fare 54 metri ma soprattutto conviene a un giornale scrivere queste idiozie cioè mi chiedo ma cosa accadrebbe se iniziassero a fare giornalismo serio e inchiesta facendo informazione e non fascinazione perderebbero lettori o ne guadagnerebbero di nuovi io la mia idea ce l'ho voglio dire youtube mi ha insegnato una cosa vedendo tanti altri canali più famosi e bravi anche di me che la gente è avida di verità di informazioni e che anche un po stanca del solito modo televisivo di raccontare balle quindi penso che anche per la stampa magari un cambio di rotta sarebbe gradito alla fine voglio dire ci sono tanti canali di divulgazione qui su youtube cavolo molti hanno anche più sostenitori di questi giornali quindi perché non prendere esempio da loro bene allora per prima cosa i dati di volo pubblicati da flight radar sarebbero bastati a evitare di scrivere idiozie bastava leggerli che alla fine che cosa ottieni a scrivere assurdità se non a danneggiare le compagnie aeree e il turismo no ma uno potrebbe pensare ai complotti non lo so magari le ferrovie pagano i giornali per scrivere assurdità sulle compagnie aeree va bene finché si fa un film horror ambientato su un aereo di linea poi è un discorso chi guarda il film lo sa che è finzione ma quando si parla del mondo reale le persone che prendono poi quegli aerei per spostarsi e viaggiare hanno diritto a sapere la verità quindi mettiamo le cose in chiaro e rispondiamo a tre semplici domande questi eventi sono frequenti i cambiamenti climatici c'entrano qualcosa volare è meno sicuro quindi inquadriamo meglio i fatti il volo sq 321 della singapore airlines era partito da londra lunedì 20 maggio scorso ed era diretto a singapore dopo quasi tutto il viaggio tranquillo in cui non è successo assolutamente niente sorvolando il mare delle andamane che nel golfo di thailandia ha incontrato un tratto d'aria turbolenta per ora diciamola così cioè definiamola così anche se non è preciso dirlo i dati di volo parlano chiaro nel momento in cui l'aereo ha incontrato il fenomeno d'aria turbolenta non ha perso 2000 metri punto non è precipitato per l'altezza di una torre di pisa e non ha incontrato un vuoto e tantomeno una variazione della forza gravitazionale quello non può succedere sulla terra mi dispiace questo grafico ci mostra chiaramente che alle 7 e 49 l'aereo sale di 275 piedi rispetto ai 37 angeli a cui stava volando cioè in metri l'aeroplano dal volo in cui si trovava guadagna 80 metri in un minuto a 750 quindi un minuto dopo ritorna a 37 e 0 75 quindi rispetto agli 80 metri che aveva guadagnato ne perde 70 a 7 51 quindi un altro minuto dopo e di nuovo alla quota iniziale e quindi a 7 52 e 7 metri più in basso quindi se avete capito questo si traduce in un po di montagna russa quindi l'aereo è salito di 80 metri ne ha persi 70 quindi 10 metri sopra e poi ne ha persi 7 quindi ha fatto un po di su e giù quindi tutto l'evento è durato due minuti quindi non pochi secondi e questo ci dà un'idea che insomma sono stati tanti secondi in cui si è ballato un po in cui l'aereo è salito rispetto alla quota iniziale e poi è praticamente ritornato a quella iniziale quindi non è precipitato di 3000 metri non è precipitato di 50 metri non è precipitato dell'altezza della torre di pisa che sia stata una brutta esperienza è ovvio paragonabile alle montagne russe ma l'aereo non ha avuto variazioni di velocità particolari e poco dopo i piloti nei minuti successivi si vede chiaramente che dichiarano l'emergenza a causa dei feriti a bordo e impostano una discesa controllata sull'aeroporto più vicino che poi sarà subito pronto ad accogliere i feriti quindi questa discesa in realtà non è niente di strano perché è avvenuta in totale sicurezza e velocità contenute in accordo con le procedure di emergenza internazionali ma fondamentalmente questa la discesa di cui parlano molti giornali che hanno letteralmente interpretato malissimo i dati di flight radar sbagliando perché appunto l'aereo veniva portato all'atterraggio sì velocemente in ordine di tempo ma per quello che può fare un aereo di linea cioè non picchiando come pazzi perché insomma l'aereo è rimasto sempre controllabile dentro le velocità e i parametri di volo che erano prestabiliti dai manuali di volo poi penso che qualcuno lo abbia già capito ma il motivo per cui ci sono stati i feriti a bordo e non parlo della vittima poverino un uomo di 73 anni che è stato colto da infarto quindi non è morto a causa delle ferite subite il motivo perché ci sono stati tanti feriti è perché come tutti sapete c'è la cattiva abitudine comune di togliersi le cinture di sicurezza a bordo e di indossarle solo se il pilota avvisa di farlo e poi un'altra pessima abitudine è quella di passare continuamente con i carrellini per il cibo e sì sto parlando di voi maledette hostess Ryanair che cercate sempre di appiopparci profumi e gratta e vinci come se piovesse ovviamente fenomeni atmosferici ad alta quota sono imprevedibili non è possibile vederli come si fa con i grossi fronti temporaleschi con i radar meteorologici quindi se c'è una turbolenza i piloti non lo sanno e non si tiene allacciata la cintura di sicurezza per questo non c'è un preavviso quindi l'effetto è ovvio provate a prendere un dosso con la vostra macchina a 300 chilometri orari senza cintura e verrete sbalzati via poi un carrellino pieno di snack idiozie e gratte e vinci e profumi è la prima cosa che vuole in giro in cabina e quindi può fare veramente male ai passeggeri stessa cosa per i bagagli non assicurati nelle cappelliere e tutti gli altri oggetti che sono liberi di muoversi in giro quindi ecco il mio primo consiglio quando si vola è solo uno tenete allacciate le cinture di sicurezza e togliete le solo se è strettamente necessario questi eventi poi sono molto rari ma possono capitare io personalmente ne ho incontrati alcuni alcuni di voi che mi seguite sicuramente ne avrete sperimentati altri è semplice la prassi di chiedere no come è andato il volo c'è stata turbolenza è normale che ci sia io le ho incontrate sia da passeggero che da pilota nella mia vita ed è chiaro un grosso aereo per voli intercontinentali è meno soggetto a queste variazioni mentre un piccolo aereo per i trasferimenti nazionali può ballare anche di più ma come dire questo è normale l'aria non è ferma può essere increspata e agitata come la superficie dell'oceano può avere le sue correnti le zone di temperature diverse e quindi ballare è normale quello che non lo è e togliersi la cintura di sicurezza e vendere profumi e gratta e vinci ai passeggeri ora mentre scrivevo questo articolo leggevo anche dei 12 feriti sul volo d'oa dublino volo della catar airways il 26 maggio giusto tre giorni fa le dinamiche non sono molto diverse al minuto 7 34 si vede una perdita di quota di 25 piedi sette metri che per le stesse ragioni cioè cinture non allacciate e carrellini in giro ha causato alcuni feriti la condizione di questi feriti non è stata così grave da determinare un atterraggio d'emergenza quindi l'aereo poi è atterrato normalmente a dublino quindi iniziamo a rispondere alle tre domande questi eventi sono frequenti bene da un lato le moderni tecnologie permettono agli aerei di evitare i fenomeni atmosferici violenti come temporali per esempio o le nuvole di ceneri vulcaniche che sono state i responsabili di gravi incidenti in passato dall'altro il traffico aereo civile si compone ogni giorno di migliaia di aeroplani questa schermata vi dà un'idea di quello che sta succedendo in tempo reale sopra le nostre teste dell'enorme quantità di voli ogni minuto sopra la nostra testa quindi dire che questi fenomeni siano in aumento perché ci sono stati due casi con feriti e ho morto in due giorni non fa testo non fa statistica come ho detto ogni giorno i voli attraversano zone di aria turbolenta che creano piccoli e grandi disagi e momento di panico ma non significa che volare sia meno sicuro anzi ancora una volta gli aerei di linea si dimostrano delle macchine estremamente sicure capace di sopportare di tutto anche bambini che piangono hostess ryanair i cori da stadio e gli applausi di noi italiani ma i cambiamenti climatici c'entrano qualcosa sì no è difficile rispondere a questa domanda in linea generale l'innalzamento della temperatura globale non fa bene ai voli perché se aumenta la temperatura diminuisce la densità dell'aria il che significa che gli aerei è come se volassero più ad alta quota anche a livello del mare e questo si traduce in corse di decollo e atterraggio più lunghe con l'aumento delle dimensioni delle piste e di motori meno efficienti ma al di là del problema di inserire gli aeroporti nel contesto urbano e dei consumi più alti di carburante non fanno diciamo non creano grandi problemi il problema incontrato dal volo londra singapore non è legato alla turbolenza poi cioè per essere più precisi in realtà ha a che fare con le correnti a getto però però a fare dei disegni per capire un poco di cosa stiamo parlando anche se non sono bravo a disegnare quindi per favore non giudicatemi l'aria come ho detto prima non è un'entità ferma e stabile che varia di pressione solo in base all'altitudine sarebbe troppo facile anzi è un fatto certo che l'aria non ne vuole proprio sapere di rispettare i nostri modelli matematici di riferimento come l'acqua in una pentola e grazie al raggiamento solare in base al tipo di terreno di mare e della sua profondità i raggi solari scaldano l'aria vicino alla superficie e le superfici si scaldano e questo tende a far salire l'aria perché appunto è più leggera lo sappiamo tutti l'aria salendo crea delle vere e proprie colonne che incontrano condizioni di temperatura sempre più rigide e si trasformano in delle vere e proprie colonne d'aria ascendente che in gerno aeronautico prendono il nome di termiche ora tutti a scuola abbiamo visto i classici schemi della circolazione dell'umidità e dell'aria di come si generano le nuvole eccetera eccetera per semplificare e restare sul tema di questo video immaginiamo che queste colonne d'aria salendo vengono deviate dal loro percorso verticale in virtù del fatto che la terra ruotando le fa distendere e allungare per un principio detto forza deviante di coriolis mano a mano che queste correnti d'aria calda si raffreddano diventano dei veri e propri fiumi d'aria che scorrono in alta atmosfera e quindi a causa del fatto che la terra ha diametri diversi a partire da quello massimo attorno all'equatore immaginate che le velocità di questi fiumi d'aria possono essere molto diverse e farino dalle zone in cui poi stridono l'un l'altro strisciano contro l'altro e si incontrano generando grandi e piccoli vortici zone di bassa pressione chiamate cicloni e di alta pressione chiamati anticicloni perdonatemi ma eviterò di riportare i quattro capitoli dedicati alla meteorologia del mio manuale di volo magari ecco forse in un prossimo video dedicherò solo a questo argomento se volete un esempio visivo pratico di questo fenomeno che ho appena descritto basta guardare giove il gigante gassoso del nostro sistema solare è l'esempio più eclatante e visibile delle correnti a getto più grandi del nostro sistema solare ricorda un po il caffè che si mescola nel latte come potete immaginare la stessa macchia rossa si autoalimenta proprio grazie alla contrapposizione di queste correnti a getto in ogni caso per quello che ci serve sapere oggi è che appunto queste correnti in alta atmosfera possono seguire la rotazione del pianeta oppure muoversi in direzione opposta sono chiamate correnti a getto e sono sfruttate ampiamente da tutto il traffico commerciale civile e militare proprio per prendere un passaggio comodo e risparmiare carburante i piloti durante i grandi voli intercontinentali si comportano né più né meno come la tartarughe di alla ricerca di nemo se avete visto il film quando spesso chiedono delle piccole variazioni di quota al traffico aereo fanno un po come i surfisti passano da un'onda all'altra proprio per imboccare la corrente favorevole più veloce e quindi risparmiare tempo e carburante quindi ecco cosa è successo al volo sq 321 ha incontrato quello strato di attrito fra una corrente a getto e l'altra chiamato cat in gergo aeronautico e quindi questo è quello che è accaduto è un passaggio che può essere violento se immaginiamo soprattutto che le velocità di questi venti possono essere nell'ordine di centinaia di chilometri orari quindi come dire è stato un bello schiaffo all'aeroplano ma a parte questo tolto quel momento quei pochi secondi per un aereo trovarsi in una massa d'aria che viaggia a 400 chilometri orari rispetto al suolo o meno non fa nessuna differenza i passeggeri non se ne accorgono perché appunto la macchina si trova immersa nella corrente e si muove insieme ad essa l'unica cosa che cambia è la velocità rispetto al suolo cioè quanto si muove velocemente l'ombra proiettata dell'aeroplano sul suolo quindi chiusa questa parentesi alla filippo pedrucci stimatissimo colonnello dell'aeronautica militare e anche se non ho due lauree in ingegneria e scienza della comunicazione spero di essere stato abbastanza chiaro i cambiamenti climatici possono rendere queste transizioni fra le correnti a getto più estreme no cioè non credo forse come ho detto di sicuro in mettere più energia nel sistema più calore rende in generale l'aria più turbolenta i fenomeni atmosferici più violenti però voglio dire non lo sappiamo in realtà quanto influenza le correnti a getto quindi come ho accennato se la temperatura dell'aria a livello globale si sta alzando aumentano anche i fenomeni temporaleschi più estremi la violenza dei venti in un certo senso sì tutto è collegato ma allo stesso tempo il traffico aereo continua ad aumentare perché gli esseri umani hanno la pessima abitudine di viaggiare e spostarsi e vogliono farlo velocemente cioè ai turisti che vogliono andare in thailandia non c'è verso di convincerli a prendere un veliero del 700 no quindi credo che due casi non facciano testo alla fine non si è paragonati all'enorme quantità di voli che avvengono ogni giorno sopra la nostra testa ma questo non significa che i cambiamenti climatici non siano in atto anzi attenzione quindi per rispondere all'ultima domanda volare è meno sicuro se devo rispondere diplomaticamente la risposta è no cioè è chiaro che l'aviazione impara da continuamente dai propri errori sono stati fatti enormi progressi in termini di sicurezza quindi è più sicuro volare oggi rispetto a prima non c'è paragone dopo questi due eventi che ho descritto non mi stupirebbe una più rigida applicazione delle cinture di sicurezza a bordo e magari si spera meno carrellini con souvenir snack e ammenniccoli avendo conosciuto personalmente qualche pilota di linea posso dire che c'è una grande professionalità nonostante i contratti da fame le condizioni a cui si sottopongono presso le compagnie minori e quindi vorrei sfatare anche qualche falso pregiudizio e mito a proposito dei piloti di linea al primo non è vero che i piloti decollano e atterrano usando l'autopilota anzi continuano a farlo manualmente secondo se volando con ryanair avete notato che gli atterraggi spesso sono duri e bruschi non è colpa dei piloti che non sono capaci ma dell'aereo infatti il boeing 737 sono aerei pensati per essere molto efficienti per questo hanno un carrello più piccolo pensato per essere pratico fare decolli atterraggi veloci a discapito del comfort dei passeggeri 3 applaudire far ridere i piloti ma non è una cosa tipica da fare insomma è tipico italiano 4 ricordatevi questo è molto importante in qualsiasi circostanza della vostra esperienza sugli aeroplani e di viaggio non dite mai al personale o ai vostri parenti che partono e amici non dite mai buon volo buon volo non si dice mai dite buon vento in bocca al lupo in culo alla ballena quello che volete ma buon volo porta una sfiga tremenda e i piloti sono estremamente superstiziosi e quindi basta mi vengono in mente altri fatterelli sconci ma non li posso raccontare qui su youtube quindi perché mi chiuderebbero il canale e questo è quanto mi raccomando cinture sempre allacciate e godetevi il vostro viaggio e iscrivetevi al canale un abbraccio alla prossima